Romina Power Agiletti, non voglio annullare il mio matrimonio con Albano Sono stati la coppia per eccellenza, tanto che la loro separazione ha lasciato tutti di schiucco Tuttavia, Albano e Romina Power sono tornati a cantare insieme, e pare che i loro storici dissapori si siano acquietati Anche il matrimonio della loro figlia Cristel, lo scorso settembre, li ha avvicinati molto A così Romina parla la Renà Digiletti di come ricorda il suo matrimonio col cantante pugliese Per il mio matrimonio non ho programmato nulla.Avevo 18 anni, ero incinta, era estate, faceva un caldo bestiale Sembro una novizia con quel vestito Pensa quanto è diversa da me mia figlia, che ha programmato le nozze per un anno e mezzo E non era ancora nemmeno fidanzata Tuttavia, è stato proprio durante una foto del matrimonio della figlia che Romina Power si è resa conto di volere rimanere per sempre la moglie di Albano Ha infatti affermato, mentre stavamo facendo la foto di Rito sulle scale, con la famiglia dello sposo e quella della sposa, ho realizzato che io sono ancora sposata con Albano Per la chiesa lo sarò sempre Non si scappa. E probabilmente saremo sposati per sempre E' difficile avere l'annullamento, ma poi chi lo vuole annullare? Per la chiesa lo sarò sempre